...ele crimine italiane... ...mono spistale... ...e dispensò l'azione cattolica ragazzi della giustizia di Roma... ...ma rilaiati in... ...insieme con tanti amici dei parocchi delle scuole cattoliche della città... ...iete venuti per la comprensione dell'Istit e della Pace... Accompagnati dal capitanale di Cario e la diocese di Roma. Cari ragazzi, siete anche accompagnati da alcuni facciadotti, da genitori, educatori e ingegnanti. Due vostri rappresentanti sono qui al Pagliari, ma a me la facevano qui, ma a me la facevano qui e la bocca un po' di Cialano e la fa volare sui colombi, singolo di facci, ma i veri mi sono scelto, i facci, 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 i facci. Emanico, riprendi, riprendi. Da Turano, presso Massacarara e da Valenzano, come pure i due gruppi di ciovani di Spandia. La Turano, presso Massacarara e da Valenzano, come pure i due gruppi di ciovani di Spandia. La Turano, presso Massacarara e da Valenzano. Grazie